Dalle cose più grandi, più difficili, in realtà a volte nascono le cose più belle della nostra vita. Quando sono a casa la prima cosa che faccio è naturalmente dedicare un po' di tempo alla mia bellezza. Truccarmi è un momento per me di grande riflessione. Non bisogna accontentarsi di ciò che si pensa di non avere, ma bisogna davvero guardare a quello che si ha e farlo diventare il vero motore della nostra vita. La danza l'ho scoperta fin da bambina. Da quel momento non mi sono più fermata, la danza è proprio diventata parte di me. Non è stato sempre facile. Ma un passo alla volta, tutto è possibile. No, no. 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 Autore dei sorrisi